L'impianto di protesi peniena tricomponente non è un rimedio al deficit erettile, assolutamente no, è un'opportunità, è l'opportunità che un uomo guasto solo da un punto di vista idraulico perché non ha più il passaggio del sangue nei corpi cavernosi che gli garantisce l'erezione naturale, viene salvato, salvato attraverso un meccanismo idraulico sostitutivo che a differenza del sangue può controllare personalmente, direttamente, gli consente di avere un rapporto sessuale ogni volta che lo desidera per tutto il tempo che vuole, quindi manca finalmente questo ricatto del sangue, questo ricatto dell'erezione naturale. Ora, questo guasto idraulico così riparato rende all'uomo la possibilità di uscire da quella solitudine, da quell'evitamento, da quell'assenza di vita che ormai ha portato nella propria vita quotidiana. Allora, questa è un'opportunità che è rivolta veramente a tutte le persone che hanno un deficit rettile importante che non risponde più ai farmaci in commercio, in uso normale. Al di là dell'età, non bisogna aspettare un'età adulta o quasi anziana per arrivare ad una possibilità che invece restituisce la vita fin da subito. Ecco, il concetto è che l'impianto in sé è straordinario, ma è molto importante chi posiziona questo impianto arrivare nel centro di eccellenza. Noi siamo qui perché vogliamo stressare questo concetto. Abbiamo visto arrivare pazienti con francamente precedenti tentativi di posizionamenti di impianti di protesi peniena di grande imbarazzo, devo dire, e quindi abbiamo dovuto sostituirli, abbiamo dovuto rimettere nuovamente il paziente in condizioni di poterlo usare. Ora, l'eccellenza è fondamentale in un intervento chirurgico di questo tipo. Il professor Antonini si occupa solamente di questo, ha voluto veramente concentrare tutta la sua energia, tutte le sue esperienze, tutta la sua crescita professionale solamente sull'aspetto dell'impianto protesico penieno. Ecco perché noi invitiamo veramente chiunque abbia un problema di deficit rettile a contattarci e capiremo insieme a lui, il professor Antonini durante la visita indirizzerà il paziente verso la soluzione migliore e se questa dovesse essere l'impianto di protesi peniena siamo assolutamente certi che non c'è una persona migliore, un centro migliore per poter avere un impianto perfetto e una nuova vita, perfetta anche lei.